L'Istituto Agrario Ulpiani di Ascoli Piceno ha fatto incetta di premi al settimo concorso enologico Istituti Agrari d'Italia del Crea Masaf che si è svolto al Vinitani. Ce ne parla il docente di enologia all'Istituto Agrario Ulpiani, Emilio Collina. È stato un successo straordinario, un'edizione da record per noi, che ci dà tanta gioia, ci ripaga di tutti gli sforzi profusi, un successo che condivido con tutto il personale, dal dirigente, i colleghi, il personale, non da ultimo i nostri studenti che sono i destinatari ultimi dei nostri saperi. Per noi è molto importante che i ragazzi apprendano tutte le tecniche di vinificazione che siano duttili nell'apprendere come realizzare qualunque tipo di vino. Il successo al Vinital è proprio questo, noi abbiamo ricevuto riconoscimenti sia per vini bianchi, per vini rossi, per uno dei nostri vini spumanti, ma l'offerta commerciale della nostra scuola prevede anche prodotti come cereali, legumi, olio extravergine d'oliva, in una realtà che è totalmente bio. Noi siamo principalmente dei produttori di studenti, quindi la nostra offerta spazia anche nell'indirizzo alberghiero, nell'indirizzo professionale tecnico agrario e non da ultimo abbiamo l'onore di ospitare nel nostro campus anche l'Università Politecnica delle Marche con il corso di studi in sistemi agricoli innovativi che permette ai ragazzi di apprendere la tradizione dell'agricoltura e l'innovazione attraverso le moderne tecniche di agricoltura 4.0.